Di Franz Kafka, Lettera al Padre, voce di Lorenzo Pieri, parte quinta. Qui forse emerge anche con la massima chiarezza la nostra innocenza reciproca. A dà B un consiglio aperto, che corrisponde alla sua concezione della vita, non molto edificante, ma tutt'oggi comunissimo in città, che forse può evitare danni alla salute. Per B questo consiglio non è esattamente corroborante da un punto di vista morale, ma perché mai nel corso degli anni non dovrebbe poter rielaborare il danno subito. Inoltre non è detto che debba seguire quel consiglio, e comunque il consiglio in sé non contiene nessun motivo per cui B si debba sentire crollare addosso tutto il suo futuro. E tuttavia qualcosa del genere accade, ma soltanto perché A sei tu e B sono io. Di questa innocenza reciproca riesco ad avere una visione d'insieme particolarmente buona, anche perché circa vent'anni dopo, tra di noi, si è verificato uno scontro simile, in circostanze completamente diverse, di fatto raccapricciante ma di per sé molto meno dannoso, perché in me, 36enne, cosa c'era oramai che potesse ancora essere danneggiato? Mi riferisco ad una breve discussione, in uno dei pochi giorni agitati dopo che vi ebbi comunicato il mio ultimo progetto matrimoniale. Mi dicesti, presso a poco, probabilmente indossava una camicetta ricercata, come sanno fare le ebrei pragesi, e di conseguenza tu hai deciso di sposarla. E naturalmente il più presto possibile, nel giro di una settimana, domani, oggi. Non ti capisco, eppure sei un uomo adulto, vivi in città, e non sai fare niente di meglio che sposare la prima che capita. Non ci sono altre possibilità. Se è questo che temi, verrò con te ad indicartele. Parlasti dettagliatamente e chiaramente, ma non ricordo i particolari. Forse mi si annebbiò la vista. Quasi quasi mi interessava di più la mamma, che, certo completamente d'accordo con te, continuava a togliere qualcosa dal tavolo e a uscire dalla stanza. Mai mi hai umiliato di più con le parole, né mi hai mostrato più chiaramente il tuo disprezzo. Quando venti anni fa mi parlasti in modo simile, nei tuoi occhi si sarebbe potuto persino scorgere un qualche rispetto per il precoce adolescente cittadino che, a tuo giudizio, poteva già essere introdotto nella vita senza tanti giri a vuoto. Oggi questo riguardo potrebbe soltanto accrescere il disprezzo, perché l'adolescente, che allora prendeva la rincorsa, è rimasto impantanato e oggi non ti sembra più ricco di qualche esperienza, ma solo più penoso di venti anni. La mia decisione per una ragazza non significava niente per te. Tu hai sempre represso inconsciamente la mia forza decisionale e adesso credi inconsciamente di sapere quanto valesse. Dei miei tentativi di salvezza in altre direzioni non hai saputo niente e quindi non potevi sapere niente neppure dei pensieri che mi hanno condotto a questo tentativo di matrimonio. Hai dovuto cercare di indovinarli e, in conformità al giudizio complessivo che ti hai rifatto di me, mi hai consigliato la cosa più ripugnante, goffa e ridicola. E non hai indugiato un istante a dirmelo, e proprio in quel modo. La vergogna di cui mi coprivi non era niente rispetto alla vergogna di cui, secondo te, il mio matrimonio avrebbe macchiato il tuo nome. Ora tu mi puoi dare qualche risposta rispetto ai miei tentativi di matrimonio e, in parte, l'hai anche fatto. Non potevi avere molto rispetto per la mia decisione se io avevo già due volte rotto il mio fidanzamento con F e per due volte ero tornato sui miei passi. Se avevo trascinato inutilmente te e la mamma a Berlino per il fidanzamento e simili, è tutto vero, ma come siamo arrivati a tanto? Il pensiero che stava alla base dei due tentativi di matrimonio era del tutto corretto. Mettere su casa, divenire autonomo. Un pensiero che a te è simpatico, solo che in realtà succede come in quel gioco in cui uno tiene stretta la mano di un altro, più forte che può, e gli grida, vai, vai, ma perché mai non vai? E nel nostro caso, tuttavia, questo è stato complicato dal fatto che tu hai da sempre pronunciato sinceramente quel vai, ma altrettanto da sempre, senza saperlo, mi hai trattenuto o più esattamente represso soltanto in virtù del tuo essere. Tutte e due le ragazze erano state scelte certo, per caso, ma straordinariamente bene. Di nuovo un segno del tuo completo fraintendimento, il fatto che tu possa credere che io, pavido, titubante e dubbioso come sono, possa decidermi tutto d'un tratto al matrimonio, rapito da una camicetta. Tutti e due i matrimoni sarebbero divenuti invece matrimoni di ragionamento, nella misura in cui da ciò emerge che giorno e notte, la prima volta per anni e la seconda per mesi, tutta la mia energia intellettuale era stata dedicata a quel progetto. Nessuna delle due ragazze mi ha deluso, sono stato io a deludere entrambe. Il mio giudizio su di loro oggi è esattamente lo stesso di quando volevo sposarle. Non è vero neppure che al secondo tentativo di matrimonio avessi trascurato l'esperienza del primo, che fossi stato cioè un po' leggero. I due casi erano molto diversi e nel secondo caso, indubbiamente molto più promettente, fu proprio l'esperienza precedente a darmi speranza. Non voglio scendere qui in particolari. Perché allora non mi sono sposato. Ci sono stati singoli ostacoli, come dappertutto, ma la vita consiste proprio nell'accettare questi ostacoli. L'ostacolo essenziale, e purtroppo indipendente dal singolo caso, era però il fatto che evidentemente io sono mentalmente incapace di sposarmi. Ciò è rivelato dal fatto che dal momento in cui decido di sposarmi non riesco più a dormire. La testa mi arde notte e giorno. Non vivo più. Mi aggiro barcollando disperato. A dire il vero non sono le preoccupazioni a provocarmi questo stato, per quanto, date la mia malinconia e la mia pedanteria, esso sia accompagnato da innumerevoli preoccupazioni. Ma queste non sono l'elemento decisivo. Completano come vermi il lavoro sul cadavere. Ma è altro a colpirmi in maniera decisiva. È la pressione generica dell'angoscia, della debolezza, del disprezzo per me stesso. Voglio cercare di spiegarlo meglio. A proposito del tentativo di matrimonio, coincidono energicamente come non mai due elementi apparentemente contrapposti del mio rapporto con te. Il matrimonio è sicuramente una garanzia della più intensa liberazione di sé e indipendenza. Io avrei una famiglia, il massimo a cui a mio parere si possa arrivare. È anche il massimo a cui tu sei arrivato. Sarei un tuo pari. Tutte le vergogne e le tirannie antiche ed eternamente nuove sarebbero mera storia. Sarebbe però favoloso e proprio in questo consiste l'elemento di dubbio. È troppo. Non si può giungere a tanto. È come se uno fosse prigioniero e non avesse più intenzione di fuggire, cosa forse possibile, ma soltanto, e a dire il vero contemporaneamente, l'intenzione di trasformare la propria prigione in un castello. Se fugge però, non può trasformarla. E se la trasforma, non può fuggire. Se io voglio divenire autonomo nel particolare rapporto di infelicità che mi lega a te, debbo fare qualcosa che se possibile non abbia nessun rapporto con te. Il matrimonio è il massimo e dà la più rispettabile autonomia, ma nel contempo ha anche un rapporto strettissimo con te. Voler andare al di là ha quindi qualcosa della follia e ogni tentativo in tal senso è punito con essa. In parte però è proprio questo stretto rapporto a rendere il matrimonio così allettante ai miei occhi. Me la immagino così bella questa parità che si costituirebbe così tra noi e che tu potresti comprendere come nessun altro, proprio perché io potrei essere un figlio libero, grato, innocente e sincero e tu un padre sereno, non tirannico, comprensivo, contento. Ma a tal fine si dovrebbe poter far sì che non fosse accaduto tutto quel che è accaduto, ovvero che noi stessi fossimo cancellati. Così come siamo tuttavia, il matrimonio mi è precluso proprio dal fatto che è il terreno che più ti è proprio. Talvolta immagino di poter aprire davanti a me la carta terrestre e di stendertici sopra. Mi pare allora che per la mia vita si possano prendere in considerazione solo quei territori che né copri col tuo corpo né sono comunque alla tua portata. E data l'idea che mi sono fatto della tua grandezza, questi territori non sono molti né molto confortanti e il matrimonio in particolare non ne fa parte. Già questo paragone dimostra che io non voglio assolutamente dire che è stato il tuo esempio ad allontanarmi dal matrimonio, più o meno come col negozio. È proprio il contrario nonostante ogni remota analogia. Nel vostro matrimonio avevo davanti a me un matrimonio sotto molti aspetti esemplare, esemplare nella fedeltà, nell'aiuto reciproco, nel numero dei figli. E anche quando i figli sono cresciuti e hanno turbato sempre più la pace familiare, il matrimonio in quanto tale non è stato sfiorato. Proprio da questo esempio forse deriva l'alto concetto che ho di esso. Il fatto però che il mio desiderio di contrarre matrimonio sia stato impotente aveva altri motivi. Essi vanno rinvenuti nel rapporto con i figli di cui tratta tutta la lettera. C'è chi pensa che la paura del matrimonio talvolta derivi dal fatto che in realtà si teme che i figli un giorno ci restituiranno quel che abbiamo fatto ai nostri genitori. Nel mio caso, mi pare, questo non ha grande importanza, perché il mio senso di colpa deriva proprio da te ed è anche troppo intriso della sua singolarità. Anzi, questo senso di singolarità fa parte della sua essenza straziante e una sua ripetizione è impensabile. Pur tuttavia, devo dire che un figlio così muto, ottuso, secco e decadente mi sarebbe insopportabile. Sicuramente se non ci fossero altre possibilità, lo fuggirei ed emigrerei, come in un primo momento volevi fare tu per via del mio matrimonio. È comunque possibile che la mia incapacità di sposarmi sia influenzata anche da questo. Molto più importante a questo riguardo è però la paura per me stesso. Questa affermazione va intesa così. Ho già accennato che con lo scrivere e con tutto quello ad esso collegato ho compiuto piccoli tentativi di indipendenza. Tentativi di fuga dal successo minimo non mi porteranno molto avanti. Molte cose me lo confermano. Tuttavia è mio dovere, o forse questa è proprio l'essenza della mia vita, vegliare su di essi per non lasciare che si avvicinino loro pericoli da cui debba difendermi o anche solo la possibilità di tali pericoli. Il matrimonio è la possibilità di un tale pericolo e al contempo anche la possibilità del massimo avanzamento. Ma mi basta che sia la possibilità di un pericolo. Che farei mai se poi fosse davvero un pericolo? Come potrei continuare a vivere nel matrimonio, nella sensazione forse indimostrabile, ma altrettanto inconfutabile di questo pericolo. Di fronte a questo posso certo vacillare, ma l'esito finale è sicuro. Debbo rinunziare. Il paragone dell'uovo oggi e della gallina domani non è molto calzante. Oggi non avrei niente e domani tutto. Eppure a decidere sono i rapporti di forza e le esigenze della vita. Debbo scegliere il niente. Allo stesso modo ho dovuto decidere quando ho scelto la professione. Il più importante ostacolo al matrimonio è comunque l'inestirpabile convinzione che per mantenere o comunque guidare una famiglia siano necessarie tutte quelle caratteristiche che ho riconosciuto in te. Tutte insieme nel bene e nel male, a costituire un tutto organico come nella tua persona. E quindi forza e disprezzo degli altri, salute e una certa smodatezza, loquacità e insufficienza, autostima e insoddisfazione del prossimo, senso di superiorità e tirannia, conoscenza degli uomini e sfiducia nei più. E anche pregi senza contropartita alcuna come laboriosità, resistenza, presenza di spirito, animo intrepido. Di tutto ciò io in confronto non avevo niente o soltanto pochissimo e con ciò io osavo sposarmi pur vedendo che persino tu nel matrimonio dovevi lottare strenuamente e coi tuoi figli arrivavi a fallire. Naturalmente questa domanda non me la ponevo espressamente né vi rispondevo espressamente, altrimenti della cosa si sarebbe impossessato il corso abituale dei pensieri e mi avrebbe mostrato uomini molto diversi da te, per nominarne uno molto vicino e assai diverso da te, lo zio Richard, che tuttavia si sono sposati e quantomeno non sono crollati sotto il peso del matrimonio, il che è già molto e a me sarebbe bastato abbondantemente. Ma questa domanda io non me la sono posta, l'ho vissuta sin dall'infanzia, io non mi sono messo seriamente alla prova rispetto al matrimonio, ma rispetto a ogni piccolezza, rispetto a ogni piccolezza mi hai convinto con il tuo esempio e la tua educazione come ho cercato di descriverli della mia incapacità e quel che era vero per ogni piccolezza e ti dava ragione doveva naturalmente essere enormemente vero per quanto c'era di più grande, ovvero il matrimonio. Fino ai tentativi di matrimonio io sono infatti cresciuto come un uomo d'affari che si trascini giorno dopo giorno per quanto sia preda di preoccupazioni e di cattivi presagi senza mettere ordine nei suoi libri contabili. Ha alcune piccole entrate che in virtù della loro rarità continua ad accarezzare a esagerare nella sua immaginazione e per il resto solo perdite quotidiane. Registra tutto senza tentare mai un bilancio, arriva però l'obbligo di un bilancio, ovvero il tentativo di matrimonio. E con le grosse somme che sono in gioco è come se non ci fosse mai stata neppure la più piccola entrata ma un unico grande debito e adesso sposati senza impazzire. Così termina la mia vita con te fino ad oggi e queste sono le prospettive per il futuro che essa reca in sé. Se tenti una valutazione dei motivi da me addotti per spiegare la paura che ho di te potresti rispondere tu affermi che per me sarebbe facile spiegare il mio rapporto con te facendo ricorso unicamente alla tua colpa ma io credo che la tua spiegazione nonostante i tuoi sforzi apparenti non ti sia comunque più gravosa solo molto più redditizia. In primo luogo anche tu declini ogni colpa e responsabilità e in questo senso il nostro procedimento è analogo mentre però io attribuisco apertamente tutta la colpa a te cosa che del resto penso. Tu invece vuoi essere super assennato e super tenero e dichiarare anche me esente da ogni colpa. Naturalmente quest'ultimo passaggio ti riesce solo in apparenza ne vuoi di più e tra le righe emerge nonostante i tuoi discorsi su essenza e natura e contrasto e inermità che in realtà io sono stato l'aggressore mentre tu hai fatto tutto quel che hai fatto solo per autodifesa. Adesso avresti già ottenuto abbastanza con la tua insincerità perché hai dimostrato tre cose. Primo che sei innocente. Secondo che io sono colpevole. Terzo che per tua magnanimità sei disposto non solo a perdonarmi ma anche più o meno a dimostrare e a voler credere che anche io per quanto contro ogni verità sono innocente. A te questo potrebbe anche già bastare ma ancora non ti basta. Infatti ti sei messo in testa di voler vivere soltanto di me. Ammetto che tra noi c'è un conflitto continuo ma ci sono due tipi di conflitto. Quello cavalleresco in cui si misurano le forze di due nemici autonomi in cui ciascuno rimane da sé perde per sé vince per sé e quello del parassita che non solo punge ma per rimanere in vita succhia anche il sangue dell'avversario. Questo è il soldato mercenario e questo sei tu. Sei incapace di vivere e per poterti installare comodamente nella vita senza preoccupazioni e senza muoverti rimproveri dimostri che io ti ho tolto ogni capacità di vivere e me la sono infilata in tasca. Che te ne importa ormai se sei incapace di vivere? Tanto la responsabilità è mia. Tu ti stiracchi tranquillamente e ti fai trascinare da me attraverso la vita fisicamente e mentalmente. Un esempio. Quando di recente volevi sposarti allo stesso tempo e in questa lettera lo ammetti non ti volevi sposare. Volevi però per non affaticarti che ti aiutassi a non sposarti proibendoti questo matrimonio a causa della vergogna che quest'unione avrebbe arrecato al mio nome. A me però non è neppure passato per la testa. In primo luogo non volevo essere d'ostacolo alla tua felicità come sempre del resto e in secondo luogo non vorrei mai dover sentire un simile rimprovero da mio figlio ma è servito a qualcosa che io abbia superato me stesso non opponendomi al tuo matrimonio. Assolutamente no. La mia avversione per quelle nozze non le avrebbe impedite anzi ti avrebbe ulteriormente spinto a sposare quella ragazza perché così il tentativo di fuga per esprimermi con le tue parole sarebbe divenuto perfetto e il mio consenso alle nozze non ha impedito i tuoi rimproveri perché sei in grado di dimostrare che in ogni caso la colpa delle tue mancate nozze è proprio mia. In fondo però qui e in ogni altra circostanza non hai dimostrato altro se non che tutti i miei rimproveri erano giustificati e che tra loro ne mancava uno solo particolarmente giustificato ovvero l'accusa di insincerità di servilismo di parassitismo. Se non vado errato anche in questa lettera continui a fare il parassita nei miei confronti. A tutto ciò rispondo che questa impostazione la quale in parte potrebbe essere rivoltata anche contro di te non deriva da te ma da me. La tua sfiducia negli altri infatti non è pari alla mia sfiducia in me stesso a cui tu mi hai educato. Non posso negare che questa impostazione la quale di per sé apporta qualche contributo nuovo anche alla caratterizzazione del nostro rapporto sia in certo qual modo giustificata. Naturalmente nella realtà le cose non possono essere calzanti come gli esempi della mia lettera. La vita è più che un gioco di pazienza ma con la correzione che deriva da questa impostazione, correzione che né posso né voglio sviluppare ancora nei dettagli, si è secondo me raggiunto un qualcosa di così vicino alla verità che un pochettino può tranquillizzarci entrambi e renderci più facile il vivere e il morire. Franza